Ridurre il più possibile i tempi di attesa è questo l'obiettivo del piano messo in campo dalle aziende sanitarie ferraresi su indicazione della regione Emilia-Romagna che a tale fine ha stanziato 30 milioni di euro. Ricerca di nuovi professionisti da inserire nelle aree in cui si registrano maggiori criticità, aumento dell'acquisto di libera professione e prestazioni da privato, miglioramento dei percorsi in generale per i pazienti fragili e cronici in particolare queste le principali azioni avviate in provincia di Ferrara. Con noi oggi c'è il dottor Vella, direttore del Dipartimento di Attività Integrata Materno-Infantile. Iniziamo col presentare il Dipartimento, le immunità operative che lo compongono e anche quali sono le principali attività. È un Dipartimento Materno-Infantile che accoglie diverse strutture complesse che si occupano prevalentemente della salute della donna e del bambino e pecularità poi di questo Dipartimento anche la gestione del connubio madre e figlio. A supporto e valorizzazione di questa attività troviamo anche il centro della procreazione medico assistita e la struttura complessa di genetica medica. Andando nello specifico abbiamo due grandi aree all'interno del Dipartimento, l'area ginecologica ostetrica e l'area pediatrica. All'interno dell'area ginecologica ostetrica trovano collocazione la struttura complessa di ginecologia ostetricia dell'ospedale di Cento e che svolge la sua attività presso l'ospedale di Cento e anche a livello territoriale con un'attività sul presidio ospedaliero del Delta e mediante un'attività di visite, sia di visite ginecologiche, di visite ecografiche e di isteroscopie e ovviamente eseguendo anche attività chirurgica. A livello invece di Kona nel Lab provinciale la ginecologia ostetricia dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara esegue le stesse attività e implementa queste anche con gli ambulatori di secondo livello. Seguendo le linee di programmazione regionali entrambe le ginecologie ostetricie presente all'interno del Dipartimento hanno attivi servizi di IVG, di introduzione volontaria della gravidanza e garantendo sia il percorso di tipo chirurgico che il percorso farmacologico e aderendo pienamente quelle che sono le linee guida di entrambi. Per quanto riguarda l'attività chirurgica è recente l'inizio dell'attività di chirurgia robotica che si inserisce in maniera estremamente importante soprattutto per la cura della patologia oncologica ottenendo in questo momento anche degli ottimi risultati. Il centro hub di Kona è anche il punto nascita, all'interno dell'area pediatrica invece trovano collocazione la pediatria, la terapia intensiva neonatale e la chirurgia pediatrica. La pediatria offre una serie di servizi tra cui l'ambulatorio di accettazione d'urgenza per le patologie acute, esegue un'attività di ricovero per la diagnosi e cura delle principali patologie del bambino e sono attivi una serie di servizi ambulatoriali delle varie specialità della branca come la gastroenterologia, la neurologia, l'urologia, la reumotologia, l'endocrinologia. Accanto a questa attività abbiamo il servizio di oncoematologia pediatrica per la diagnosi e delle patologie tumorali. La terapia intensiva neonatale invece ha una duplice attività, è definita terapia intensiva neonatale neonatologia perché abbiamo un'area intensiva in cui vi è un'altra specializzazione nel trattamento del prematuro, del grave prematuro e nel percorso del paziente neonato con patologia. Accanto ad esso abbiamo un percorso del neonato fisiologico supportato dall'attività appunto della neonatologia in cui sono previste sia la valutazione ovviamente nell'immediato postparto che il follow up regolare che avviene nelle settimane successive. La chirurgia pediatrica invece è un servizio trasversale, il chirurgo pediatra è a supporto di tutta l'area pediatrica sia in epoca neonatale quindi sul grave prematuro fino all'epoca adolescenziale, eseguono attività chirurgica di bedside surgery all'interno della terapia intensiva neonatale in casi in cui è necessario intervenire direttamente in pazienti molto piccoli e instabili ed eseguono attività rutinarie ed urgenza presso le sale operatorie del blocco operatorio con una prevalenza di chirurgia mininvasiva e di applicazione di nuove tecnologie. Per quanto riguarda le strutture complesse come vi dicevo ha supporto e valorizzazione a livello dipartimentale, il centro di procreazione medico assistita ovviamente è inserito nelle fasi del concepimento, esegue all'incirca 3.000 prestazioni annuali ed è in grado di garantire un ciclo, un percorso di procreazione medico assistita in tempi ragionevoli all'interno di quelle che sono le offerte regionali. Sempre all'interno del dipartimento ha un ruolo estremamente importante la genetica medica, la quale svolge la sua attività con due servizi principali, quello clinico di supporto ovviamente alla diagnosi e al percorso delle malattie genetiche e di tipo laboratoristico soprattutto per quanto riguarda ovviamente la ricerca e la diagnostica nell'ambito delle malattie rare dove è un centro hub regionale e dove sono note le collaborazioni di tipo nazionale e internazionale in questo ambito che necessita di implementazione. La direzione generale ha chiesto a tutti i direttori del dipartimento di mettere in campo una serie di azioni nell'ambito di quel piano per la riduzione dei tempi d'attesa che è stato addettato dalle aziende sanitarie ferraresi su indicazione della regione. A livello del suo dipartimento su quali direttrici vi state muovendo e vi siete già mossi in questi mesi? La prima azione che è stata portata avanti a livello dipartimentale è stata quella dell'ottimizzazione delle risorse, quindi grazie all'attività dei direttori, l'attività dei dirigenti medici e delle direzioni delle professioni, di tutte le professioni sanitarie è stata ovviamente portata avanti l'attività di implementazione, quindi una riorganizzazione interna di tutte le strutture complesse coinvolte ovviamente questa risposta, l'abbiamo implementata a livello di ambulatori di ginecologia ostetricia sia a livello dell'ospedale, del lab provinciale e quindi di Kona, abbiamo implementato l'offerta degli ambulatori di ginecologia ostetricia anche sul territorio per quanto riguarda l'ospedale di Cento e per quanto riguarda l'attività che i dirigenti medici di Cento eseguono da alcuni mesi presso l'ospedale del Delta. È stata implementata l'attività ambulatoriale anche nell'area pediatrica, gli ambulatori di allergologia pediatrica e di neurologia pediatrica che sono quelli che sono maggiormente interessati nella necessità di implementazione delle prestazioni hanno dato una buona risposta con un aumento di quelle che sono le visite, mentre invece la chirurgia pediatrica svolge, come avevo detto in precedenza, un'attività capillare a livello del territorio in grado di non creare un aumento delle liste d'attesa che sia non rispondente alle necessità della popolazione. La seconda azione che è stata eseguita è stata un'azione anche di tipo preventivo, tutte le strutture complesse hanno mantenuto la loro attività a pieno regime nel periodo estivo e anche questo ha necessitato di una riorganizzazione interna, che devo dire ben eseguita e ben accolta da tutti i direttori e dai dirigenti medici, con ovviamente supporto anche della direzione delle professioni. Quest'attività di mantenimento ha evitato ovviamente anche un accumulo che era fisiologico avvenisse nel periodo post estivo. Come altre strutture complesse e ovviamente altri dipartimenti abbiamo abbracciato l'iniziativa delle domeniche della specialistica che abbiamo eseguito e continueremo ad eseguire erogando prestazioni di visite ginecologiche e ostetriche e prestazioni di chirurgia pediatrica e di pediatria. Tra le indicazioni e tra le azioni previste da questo piano di riduzione dei tempi di attesa viene inserita anche una necessaria riflessione su quella che è la proprietezza prescrittiva. È un argomento estremamente interessante, un argomento estremamente delicato proprio perché la figura della madre e la figura del figlio portano molto spesso alla possibilità che possa esserci un eccesso di queste prescrizioni. In realtà esistono già una serie di percorsi consolidati con ottimi rapporti tra quelli che sono le attività ospedaliere, quindi le prime visite che vengono eseguite, parlo dell'ambito ginecologico, percorsi già ben consolidati con i consultori in cui esiste a mio avviso già un iniziale buon indirizzo. Per quanto riguarda la prescrizione è ovvio che il confronto viene eseguito con quello che è il territorio. Sono in atto in questa fase già da alcuni mesi incontri specifici monotematici o di casi clinici con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sul territorio che dovrebbero e hanno come scopo quello di aumentare lo scambio culturale tra l'ospedale che eroga dei servizi e il territorio stesso e a mio avviso anche questo potrebbe in qualche maniera rientrare in un'azione favorente una miglior attività di prescrizione.